Musica Dal primo mattino allo stadio Ganeo, appuntamento per gli agricoltori dal Veneto e anche fuori regione, arrivati 600 trattori. Le nostre aziende muoiono soffocate da prezzi e burocrazia, le voci di chi coltiva la terra per lavoro e passione ma rischia di dover rinunciare a tutto. Incidente in montagna sulle palle di San Martino, travolti da una valanga, un padovano 32enne e una vicentina di 26 anni. E' stato colpito da un infarto Adriano Gallo, il 72enne di Borgoricco, morto in un vivaio di Riese Pio X, domani i funerali. Dopo anni di carcere, Emanuela Cacco, condannata per il delitto di Isabella 90, ha iniziato a lavorare, esce dal carcere due volte alla settimana. Numeri da record per la Basilica di Sant'Antonio nel 2023, che torna a livelli pre-Covid, oltre 900.000 fedeli e più di 1.000 pellegrinaggi dall'estero. Nel giorno di San Valentino si è celebrata la giornata mondiale delle cardiopatie pediatriche congenite, oggi 9 bambini su 10 diventano adulti e possono vivere un'esistenza normale. TG Padova, buongiorno e ben ritrovati, l'avete sentito, la protesta dei trattori arriva a Padova, ma ci racconta tutto in diretta la nostra Valentina Visentina. Buongiorno Valentina. Buongiorno dal piazzale dello Stadio Uganeo, completamente pieno di trattori arrivati da tutto il Veneto e anche da fuori regione, da Mantua, da Udine, altri 200 trattori. Li sentiamo proprio in questo momento, stanno arrivando dalla tangenziale, arrivano dalla parte sud della regione, da Rovigo, segno che la protesta è stata sentita. Qui, appena parlato pochi minuti fa, anche l'assessore regionale Federico Caner, che è stato anche leggermente contestato dagli agricoltori, che avrebbero preferito protestare e manifestare in centro a Padova, in Prato della Valle, per essere più visibili, ma per ragioni di sicurezza e gestione del traffico, è stata spostata qui allo Stadio Uganeo, visti i numeri importanti di questa protesta. Qui con me ci sono alcuni degli agricoltori che adesso si stanno susseguendo sul palco con gli interventi, intanto sono tutti giovanissimi, segno che l'agricoltura è un settore che per molti giovani è ancora un punto di riferimento. Per esempio, tu sei di Padova, di Limena, produci latte e qual è il messaggio che volete lanciare oggi? Il messaggio più importante che vogliamo lanciare è che ci venga pagato il giusto prezzo quello che produciamo, che è un prodotto sano e che da altre nazioni, da dove viene importato in Italia, non è sano come il nostro, perché l'Unione Europea ci mette un sacco di vincoli, noi li rispettiamo, però poi non può importare da altre nazioni estere in cui magari nutrono gli animali con OGM lo stesso prodotto, magari ad un prezzo minore. E noi chiediamo che ci venga riconosciuto il giusto prezzo quello che produciamo. E poi è un po' una catena, perché se non viene riconosciuto il giusto prezzo a chi produce, anche i conto terzisti ce ne rimettono, questa è un po' la tua storia. Sì, io sono un conto terzista appena partito e riscontro che negli anni, soprattutto in questo ultimo periodo, le aziende fanno fatica a fare un reddito e quindi quando noi andiamo giustamente a farci pagare le lavorazioni, giustamente vedi che fanno fatica anche loro. Cioè è una catena che quindi si ripercuote un po' su tutti alla fine, dal contadino al conto terzista e anche al consumatore finale che poi va a strapagare il prodotto perché ci sono degli industriali che lo alzano talmente tanto, c'è il costo di lavorazione. Ecco, intanto sentiamo ancora i clacson, quindi fra poco vi faremo vedere l'arrivo dei trattori, qui con me c'è anche un ragazzo di paese e insomma, volevate una protesta un po' più visibile forse oggi? Sì, i miei colleghi hanno giustamente spiegato le problematiche, i motivi per i quali siamo qui a protestare, l'unica cosa è che siamo rimasti veramente delusi che è che ci hanno messo insomma in disparte, qui distante dalla gente, ne abbiamo bisogno di stare in mezzo alla gente, parlare con i consumatori, parlare con il popolo, far capire, far conoscere l'agricoltura, far conoscere i nostri problemi e non star qui a battibeccare con dei politici in giacca e cravata, che non ci va da nessuna parte, loro dicono che è più forte l'Inter, io più forte la Juve, non ha ragione nessuno dei due. L'importante è stare in mezzo alla gente e far capire le nostre esigenze e i prodotti che produciamo noi, far capire che sono qualcosa di meglio. Grazie, allora ci spostiamo e vi facciamo vedere l'arrivo dei trattori, Sharon ancora qualche minuto se possiamo ottenere il collegamento perché stanno arrivando, sentiamo i clacson, eccoli qua, le immagini di Andrea Benetti che vi mostra i trattori che stanno arrivando, sono gli ultimi 200 trattori che erano attesi qui allo stadio Euganeo di Padova per completare questa protesta che durerà tutta la giornata fino al pomeriggio con interventi dal palco, pochi minuti fa c'è stata anche una benedizione di tutti i mezzi e fra poco si dovrebbe tenere anche un minuto di silenzio per tutte le vittime dell'agricoltura, degli agricoltori che hanno perso la vita lavorando ma anche che si sono tolti la vita per le difficoltà subite nella gestione di questo settore. Lo vedete l'arrivo dei trattori, sono circa, Dario quanti trattori stanno arrivando? Stanno arrivando 260 provenienti da Mantua e Verona in questo momento, vedi ce ne sono ancora in tagenziale. E allora Sharon con queste immagini dell'arrivo dei trattori, noi vi facciamo vedere ancora qualche minuto e poi vi proponiamo invece l'arrivo di questa mattina dei trattori che sono arrivati qui allo stadio Euganeo intorno alle 8.30 e se vi rimarranno tutto il giorno, vi rilasciamo con queste bellissime immagini e poi ci sono le testimonianze raccolte questa mattina da Chiara Gaiani. Cassandro Filiberto, da Pianiga e ho sempre lavorato a terra, sempre, da quando ero ancora bambino, 10 anni e ora ho da dirvi che sono da poco scuola perché sono lavorato e però con queste mani qua, con questa testa qua, mi devo sempre guadagnare e non voglio contributi, non voglio aiuti e poi mi pare che mi basta solo il prodotto che produciamo che venga a pagare al giusto prezzo Intanto le chiedo il nome È Rebecca Rebecca? Magna Same Da dove arriva? Da Sant'Angelo di Piove Ecco lei è arrivata sul suo trattore potente Lei fa l'agricoltore? Sì, noi abbiamo un'azienda agricola di vacche da latte, di suini e abbiamo anche il caseificio dove trasformiamo il nostro latte per la produzione di formaggio e di carne suina Quanti anni avete in due? Non ho 70? No, io ne ho 39 E te? 28 Ecco, quindi neanche 70 anni in due avete deciso di investire nell'agricoltura? Eh sì, io diciamo che continuo nell'azienda del papà che era del nonno noi abbiamo un allevamento di vitelloni Da ingrasso abbiamo delle campagne, ci coltiviamo i nostri raccolti per i nostri animali abbiamo una linea di alta qualità, cerchiamo di impegnarci a fare un prodotto di qualità Perché però siete qui oggi? Non riuscite a sopravvivere? Non riuscite a manifestare perché questa qualità non ci viene riconosciuta dal mercato Questo trattore da qui è scesa quanto vale? Beh, sui 300.000 euro Lo sta ancora pagando? Certo Per quanto lo dovrà pagare? Per altri tre anni ed è difficile pagarlo Non abbiamo solo questi, ne abbiamo tanti altri Se l'agricoltura va avanti così credo che ci fermiamo tutti ma anche i cittadini che mangiano, non solo noi dell'agricoltura specialmente a chi arriva al pranzo in tavola Buongiorno, sono Baiocco Diego da Lentiai A che ora è partita stamattina? Stamattina alle 5 e mezza ero in stalla e dopo abbiamo caricato la cariola nella macchina e siamo venuti giù abbiamo dei nostri amici che stanno arrivando col trattore e vediamo se possiamo far muovere qualcosa Sono Monica Francescon di Salboro mio marito ha un'azienda con il fratello e i figli e nipote e si dedicano a mucche da latte e abbiamo anche un distributore di latte fresco Si vive? Purtroppo con quello che si guadagna non tanto bene infatti sono per queste che ci sono queste proteste perché come dicono i latte a noi ce lo pagano a 50 centesimi mentre le grandi distribuzioni come lei sa da 1,90 a 2 euro Federico Gallo, arrivate da tutto il Veneto per dire che cosa con forza? Innanzitutto per far vedere che noi agricoltori abbiamo necessità soprattutto di vivere vogliamo una vita dignitosa speriamo sempre in un domani migliore speriamo sempre che la situazione migliori perché quando ha chiuso un'azienda agricola non riapre più Grazie a Valentina Visentina e Chiara Gaiani per averci raccontato nel dettaglio questa protesta ora cambiamo argomento incidente in montagna ieri mattina una valanga si è staccata dalle pale di San Martino travolgendo un gruppo di sci alpinisti Vivi! Grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi allertati dai compagni di escursione sono stati travolti da un'immensa nuvola bianca di neve e ghiacci due sci alpinisti veneti rimasti feriti ieri durante una passeggiata ad alta quota sulle pale di San Martino ferito in modo lieve Giovanni Zilio 32enne padovano che è riuscito ad uscire da solo dall'ammasso di neve che lo ha travolto la sua compagna di escursione un'amica 26enne Vicentina è grave in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento ferita in ipotermia è stata estratta in stato di incoscienza dalla valanga dagli uomini del soccorso alpino che sono partiti ieri con due elicotteri per recuperare i feriti e per lustrare la zona per verificare che non ci fossero altri gruppi di persone coinvolte dalla slavina la valanga, un fronte di ghiaccio e neve di circa 20 metri si è staccato dalle pale di San Martino lungo il canale dei Bureloni intorno a mezzogiorno e l'imprenditore di Borgo Ricco morto lavorando in un vivaio di Riese Piodecimo è stato stroncato da un infarto domani i funerali Ad uccidere Adriano Gallo il 72 anni di Borgo Ricco morto mercoledì scorso mentre stava lavorando in un'azienda florovivaistica di Riese Piodecimo è stato un infarto e non i traumi da schiacciamento provocati dal muletto che gli è caduto addosso l'autopsia sull'uomo titolare di una ditta che commercializza fertilizzanti e terriccio ha stabilito le cause del decesso Gallo è morto per un infarto fulminante le lesioni provocate dalla caduta del muletto che era scivolato dal cassone non erano così gravi da provocarne il decesso Adriano Gallo ha avuto un malore proprio mentre stava fissando il macchinario sul cassone del camion che poi gli è caduto addosso già in passato il 72 anni aveva avuto un infarto che aveva superato ed era anche tornato al lavoro visto l'esito dell'autopsia la procura dovrebbe dunque archiviare l'inchiesta nel frattempo ha già dato nulla osta per la restituzione della salma ai familiari che ora potranno celebrare i funerali l'addio è previsto per domani alle 15 nella chiesa di Borgorico Continuiamo con la cronaca i poliziotti della squadra mobile di Padova hanno arrestato due spacciatori tunisini catturato un trafficante internazionale di cocaina condannato a 20 anni di carcere Era ricercato per traffico di droga perché in Svizzera è stato condannato a 20 anni di carcere è stato ritrovato e arrestato a Padova un trafficante nigeriano di 25 anni tra febbraio e marzo del 2022 aveva trasportato da Padova in Svizzera con più viaggi oltre 8 kg di cocaina lo straniero era tornato in città sperando di evitare la condanna ma è stato rintracciato e portato in carcere in attesa dell'estradizione la squadra mobile di Padova nelle scorse ore in due differenti operazioni antidroga ha arrestato anche due spacciatori tunisini il primo bloccato in via dei Colli si tratta di un ventenne della Tunisia in Italia da dicembre mentre stava vendendo una dose di cocaina ad un cinquantenne padovano lo straniero era irregolare così dopo il ritto per direttissima è stato espulso e trasferito al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo il secondo spacciatore invece è stato arrestato in via appasinato si tratta di un 19enne tunisino che stava vendendo una dose di cocaina a un 62enne padovano che in tasca aveva un coltello di oltre 20 cm e per questo è stato denunciato il giovane tunisino aveva altre 8 dosi di cocaina e 1200 euro in tasca dopo l'arresto è stato portato anche lui al CPR di Gradisca di Sonzo in attesa dell'espulsione e dopo anni di carcere Emanuela Cacco condannata per il delitto di Isabella 90 ha iniziato a lavorare e può uscire di prigione due volte a settimana Ha iniziato a lavorare all'esterno del carcere due volte alla settimana Manuela Cacco la tabaccaia di Campo Nogara condannata in via definitiva a 16 anni e 10 mesi di carcere per l'omicidio di Isabella 90 la segretaria di Albignasego uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016 e il cui corpo non è mai stato ritrovato La Cacco era stata complice dei due autori materiali del delitto i fratelli Deborah e Freddy Sorgato condannati a 30 anni di carcere per il delitto e l'occultamento del cadavere Manuela Cacco dopo l'arresto era stata l'unica del terzetto diabolico a collaborare con i poliziotti raccontando in parte quanto è accaduto la notte dell'omicidio di Isabella La tabaccaia quella notte aveva indossato il giubbetto della 90 e si era fatta riprendere dalle telecamere del centro storico di Padova per simulare l'allontanamento volontario Ora a 8 anni dal delitto la donna può uscire dal carcere della Giudecca dove è detenuta dal febbraio del 2016 e recarsi due volte alla settimana in un centro di solidarietà cristiana per fare lavori socialmente utili viene pagata 20 euro al giorno i fratelli Sorgato e Manuela Cacco non hanno mai reso noto dove sia stato nascosto il corpo di Isabella né tantomeno hanno mai chiesto perdono ai familiari della donna Apriamo ora la pagina politica basta non mi candido alle europee il partito è stato molto chiaro questo lo sfogo deleghista Roberto Marcato a Focus ospite il nostro direttore Luigi Bacialli Sabato pomeriggio stavo prendendo un caffè con mio fratello tra l'altro anche lui è un militante storico della Lega e così parlando mi ha detto ma insomma che idee hai cosa vuoi fare da grande Eutuardo non lo so perché non capisco e lui mi ha detto scusami sei il politico più votato del Veneto e l'hai fatto con la lista Lega che ha fatto un terzo della lista Zaia hai dato la vita a questo partito di fronte a questo stanno qua a vedere se ma si ma ma mandali a A Roberto Marcato non serve finire la frase per farsi intendere ospite del direttore Luigi Bacialli a Focus TG il bulldog del carroccio riporta un aneddoto privato dall'indubbia valenza politica nel momento in cui i partiti stanno decidendo la strategia in vista delle europee una settimana fa sempre dai nostri studi l'amministratore più votato della Lega Zaia Escluso aveva rivelato di non aver ricevuto alcuna chiamata dai vertici regionali silenzio proseguito anche negli ultimi sette giorni un chiaro segno di disinteresse vissuto con amarezza e stupore ma devo stare qua a convincere qualcuno del mio valore il mio valore è stato certificato dall'affetto dei Veneti cioè di cosa stiamo parlando devo stare qua a telefonare per dire scusa partito mi vuoi bene ti piaccio secondo te essere l'uomo più votato di tutto il Veneto secondo te essere uno dei più conosciuti di tutto il Veneto è sufficiente devo cambiarmi il taglio dei capelli cosa devo fare questa frase che mi ha detto il mio fratello per me è stata per cui basta a me insomma dai ma lo sfogo raggiunge il clou dopo aver sentito le parole del vice segretario leghista Riccardo Barbisana ospite lunedì sera a Ring sono stato abituato così nella Lega non ci sono principi e principini che si possono mettere in attesa di una chiamata siamo tutti militanti e se non ti chiamano chiami tu per l'Europa basta il partito si è espresso anche l'altra sera attraverso i vice segretari principi e principini oh abbiamo il rispetto delle persone basta adesso chiuso stiamo qua ecco perché Barbisana incarnava il ruolo di vice incarna il ruolo di vice segretario parla parla per il partito partito che però ha marcato dice di non voler lasciare la Lega resta la mia casa dice a Baccialli chiudendo però con una stoccata ma vai sono molto sono molto sereno quando hai il consenso dalla tua parte non devi non devi preoccuparti insomma ecco si deve preoccupare che il consenso non ce l'ha voltiamo pagina domenica prossima la festa della translazione delle reliquie del santo che i fedeli conoscono come la festa della lingua 903.357 passaggi registrate alla cappella delle reliquie 1023 pellegrinaggi da 49 paesi del mondo la basilica di Sant'Antonio resta uno dei cuori pulsanti della fede e della devozione con persone che da tutta la terra si affidano al santo innamorato del signore ma è stanco di predicare in favore dei poveri il suo messaggio semplice attira pellegrini con numeri che stanno man mano tornando ai livelli del periodo pre-pandemia che entrano con fiducia nella basilica affidando la loro vita le loro angosce i loro grazie guardando i pellegrinaggi organizzati quasi 8.000 persone arrivano dall'Italia ma crescono i devoti stranieri i più numerosi restano i polacchi seguiti da Francia Croazia Stati Uniti e per la prima volta tra i primi 5 l'Ungheria devoti che arrivano dai cinque continenti e da zone calde di guerra come Ucraina Iraq Israele e Nigeria il gruppo più piccolo di pellegrini è arrivato dal Costa Rica tra i pellegrini nel 2023 anche il principe Alberto II di Monaco i giorni di massima affluenza oltre al 13 giugno giorno di Sant'Antonio che a Rete Venete emittente del network media nord-est trasmesso in diretta il primo maggio a festa dei lavoratori e il giorno di Santo Stefano il 26 dicembre una comunità che si arricchisce anche di presenze virtuali il portale santantonio.org nel 2023 ha registrato più di 2 milioni di visite e nel giorno di San Valentino si è celebrata la giornata mondiale delle cardiopatie pediatriche congenite Giorgia, Beatrice, Andrea e Filippo giovani e sorridenti sono i testimoni più importanti che la cardiopatia congenita ormai diagnosticata nel grembo materno non rappresenta più una sentenza di morte anzi il centro di Padova è un'eccellenza con i responsabili i vertici delle società europee di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica ogni anno nell'azienda ospedaliera di Padova vengono visti 490 pazienti in cardiologia più di 300 in cardiochirurgia per tutti loro la speranza c'è negli anni 80 la mortalità per cardiopatia congenita era del 50% solo un bambino su due ce la faceva oggi dal 2000 la sopravvivenza è di oltre il 90% ma i nostri ragazzi non solo sopravvivono in molti casi nella stragrande maggioranza dei casi possono avere una vita assolutamente normale diagnosi sempre più tempestive permettono interventi a misura di paziente anche grazie l'aiuto della tecnologia dall'intelligenza artificiale alle stampanti in 3D oggigiorno questa possibilità di avere la stampa 3D e la realtà virtuale fa sì che noi riusciamo a pianificare gli interventi prima di poter portare il paziente in sala operatoria il che da un lato possiamo spiegare al paziente quello che andremo a fare da un lato minimizziamo il rischio di tempi operatori e soprattutto diamo quella che è una chirurgia molto customizzata cioè la chirurgia che noi facciamo non è per un difetto ma è per quel paziente le storie di Giorgia e Beatrice sono storie di speranza anche se per loro la legge non prevede ancora il diritto all'oblio Giorgia che vive a Conegliano studia all'università adesso aveva 15 anni quando ha subito l'intervento io ho avuto un intervento all'orta ascendente quindi sì era una cosa particolare all'epoca adesso probabilmente è diventata più più comune ricordo che con me c'era anche un ragazzo del sud che aveva fatto lo stesso intervento anche Beatrice è una studentessa padovana adesso ventenne di interventi ne ha subiti tre sono nata con il ventricolo destro dopo uscita e con un difetto interventricolare avevo il ventricolo destro più piccolo di quello sinistro e di conseguenza questi tre interventi sono appunto stati fatti per ingrandire il ventricolo destro Giorgia e Beatrice come Andrea e Filippo fanno parte della divisione junior dell'associazione Un Cuore Un Mondo Padova sono amici aiutano le famiglie che affrontano il percorso di cura di una cardiopatia congenita e il futuro lo guardano con il sorriso sulle labbra questo era l'ultimo servizio da Padova è davvero tutto grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti